ciao amori miei allora facciamo che facciamo che piaccia barbara perché mi tocca accontentarla questa che faccio allora con ricotta e marmellata di fichi va bene va bene che si gira che te lo dica fa allora che buona 200 grammi perché io faccio piccola mica io faccio grande per lei sola perché la marmellata di fichi non piace piace solo a me va bene piace pure a me però io mi piace troppo allora 200 grammi di farina allora farina poi se me ne serve un altro po non me la metto qua una mancetella eccola qua allora un uovo poi 85 grammi di zucchero e giriamo che crostatina ragazzi miei ho trovato la marmellata dei fichi quella buona allora una bustina di vanillina eccola qua allora poi 110 grammi di burro ammorbidito ammorbidito eccolo qua vedete che si taglia con una forchetta ragazzi sta cosa è proprio carina mi mancava mi sono scordata di mettere il cortello uguale faccio qua forchetta ma qual è il problema va bene va bene gildarella e metto oh no troppo un pizzichetto di lievito va bene va bene e adesso cominciamo a impassare anche le mani gildarella e dai e va guardate questa è una crostatina che se la fate a natale se magnano pure la fiella prelibatissima ma mi piace una cifra proprio ragazzi devo mettere pure un cucchiaio di latte va bene c'è la rigottina e questa è la marmellatina dei fichi buona uno ecco qua due cucchiai di latte va bene va bene cara vai mettetecelo perché vi viene una pasta frolla favolosa no buona di più voi direte ma che serve serve non vi preoccupate mettetecelo ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua vedete guardate che bella che è allora ecco qua 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 qua due minuti ecco fatta la pasta frolla vai ecco allora eccola qua adesso la lascio riposare una mezzoletta guardate guardate è un burro questo impasto ragazzi ecco fatto voilà la lasciamo riposare taglio qua la mano va bene dai lasciamo la riposare allora intanto do una sistematina alla ricotta allora io ci metto soltanto un pochettino di cannella eccola qua basta questa non metto nient'altro una spolverata di cannella non metto nient'altro quanta ricotta è? allora questa è 200 grammi ricotta di mucca si poi se volete potete mettere pure quella di pecora ecco questa qua poi apriamo questa è la marmellata dei figli mamma mia che spettacolo ecco qua mamma mia ragazzi senti che profumo metto questa ecco la torre che buona io la amo adesso ci spremo due gocce di limone ecco qua basta così ecco qua vedete ok ecco qua allora qua tanto che comincia ci spruzziamo ecco fatto così così non si attacca vai 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 allora adesso ecco fatto lasciamo questa per le righette e cominciamo a fare la crostata super crostata e vai di ricotta e marmellata di ficchi adesso ho la colina in bocca io raga eccola qua e qua per finire c'è una dure noci tritate ecco il gatto qua un po' rialzato vedete ecco qui ecco non sa quanto si sverta gir da lei si sverta che ci vuole è piccoletta poi manca di ecco fatto allora adesso ecco vedete fate il bordino ecco qua vedete ecco voilà ecco fatelo ecco io se no dopo diventa troppo largo qua e non mi piace allora adesso mettiamo un pochettino di ricottina e si di marmellata sotto poca poca ecco fatta che goduria raga ecco qua poi mettiamo tutta la ricotta di profumo eccola qua eccola qua come profuma ecco qua mamma mia ecco qua vedete vediamo che si se ne deve spreca niente che questa è particolare questa marmellata ecco qua e adesso la sparmiamo per bene un po' qua allora la ricotta l'ho detto 200 grammi la marmellata è 300 grammi va bene? va bene cara ho detto tutti i ingredienti Barbara è stata attenta boh che ne so mi pare di sì Gildare insomma io qui poi con i profumi guardami con fondo bella mia lo sai no? che io mi incanta guardare queste cose Gildare mica è facile sa guardare così ragazzi è più facile quando la mangi che buona infatti già mamma ha ginocotta io che apposta allora va bene va bene va bene Gildare adesso mettiamo qualche gheriglietto di noce perché questa è come il pepe ci stanno proprio bene raga due pezzetti di noce sbriciolata sopra vedete è certo che ci sta bene ci sta una favola ricotta marmellata di fichi e noci ecco questa al pranzo di Natale ve si mangiano a voi eppure ho stampo sagrostata per quanto è buona che spettacolo questa proprio sì ecco qua bastano signori bastano bastano sì quell'altro lascio le mangiamo così 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 raga guardate un po' e adesso fammi striscioline mi agitare adesso lo facete certo allora prendi ahio mamma mia stamano che dolore ce l'hai di là mattarello dove? sì che cercavi che ne so ma che cercavo eh bella mia vediamo come mi fa queste strisciolette va come voi uguale come te pare e come faccio io poi fa il torciglione poi fa ziche zache poi fa quello che te pare e girare tutto buono è quindi no problem vai ecco pure così non c'è problema vai pure così perché che so da buttare no dico pure semplici così è certo la semplicità meglio cosa ricorda vai ti è tu devi sempre guardare bene io te l'ho detto ecco ho fatto la finta visto eh Annaia te posso non girare allora ecco ragazzi mi fa male una mano oggi è indolenzita cittadella oggi eh comincia il freschetto qui veramente proprio e quando è umido perché è umido e quando è freddo perché è freddo e quando è cale perché è cale e non siamo mai contenti non è che io non so contenta io sono contenta no sto parlando in generale io parlo in generale se mi fa male il dito qua che devo fare eh guarda che bello andiamo a vedere un po' così così che fa mette le mie stelline ci mettiamo due stelline sopra carine carine sì e vai e vai e vai non mi dimmo qua ecco non mi dimmo qua qua che carina non mi dimmo qua vai ok lo sta è proprio un amore girtare proprio carino sì perché mi è rimasta un pochettino di pasta non si deve spiegare è carina visto che è Natale facciamoci due stelline se no ci mettevo un'altra cosa sopra ci facevo però ah carine stelline a parte vabbè pure che fosse stelline tanto c'è sempre fatta sono carine sì coricini stelline va bene ecco basta solo questo basta allora qua ecco qua un'altra là eh sì questo è poi devo finire un'altra là e a fine abbiamo riempito le stelline certo bella però ecco guarda e vai distanziamole un amore girtare è proprio bella allora adesso la vado a infornare a forno caldo a 180 quando la metto dentro la metto a 170 poi sempre controllandola una trentina di minuti 20-30 minuti va bene? va bene vai allora dimenticavo lo stampo è 22 centimetri va bene dai di corsa di corsa infornare eccola qui andiamo a vedere mamma mia raga guardate un po' quanto è bella che spettacolo che profumino guardate che meraviglia vi piace vi piace? vi piace? allora adesso io l'ho fatta fredda un pochetto perché se no non è che si può aprire adesso dai ne taglio un pezzetto vediamo com'è dentro vediamo com'è dentro dai aspetta prendo il pezzetto più piccoletto perché è ancora calda guardate quanto è arta è ancora calda buona allora è ancora calda raga no vabbè raga io svengo qua è croccante ma morbida buona mettiamo così non mi dispiace eccola qua mamma mia guardate che bella guardate no vabbè tiè guarda che roba ragazzi giraci un po' faccia vedere qua a cuori tiè guarda che robetta raga mamma mia non spettacolo girare non spettacolo ti piace è bella eh mi piace che si guarda girare mamma mia con questa ci faccio colazione pranzo e cena ci faccio tutto merenda spuntino tutto tiè mamma guardate che bella vedete come viene mi piace che ciò dice che ciò dice a fa' qua girare ci piace che si eh dai mi tocca assaggiare il pezzetto e certo dai e su mi rimproverano ecco vai girare facci vedere va allora tanto per cominciare ecco frighi da stellina ti mangiare la stellina buona stellina non puoi capire che eh lo posso capire sì mamma mia raga tiè guardate il gildarella ora viene lei al posto mio buona gildare buonissima è uno spettacolo raga allora è una marmellata favolosa ma proprio buona voglio far vedere bene guardate quanto è bella uno spettacolo è raga guardate che bella andate un po' andiamo a vedere mamma mia tiè proprio bella buona che spettacolo guardate la marmellata va bene amori allora adesso amori miei io vi mando tanti baci belli questa se la fate a Natale è uno spettacolo cioè fate un figurone e vi mando tanti baci belli sempre dal cuore e dalla cucina di gilda tutti quanti e piatto ricco e mece ficco e fatela certo che la fanno gilda questo è poco ma sicuro è vero è proprio buono basta basta perché sennò qua ma dove si finisce un bacio grande a tutti dalla cucina di gilda ciao 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 ciao